e che c'è ormai io sono mazzatezza e ben ritrovati qui su expeditions rom siamo ancora nella parte di assalto a mitridate ne dobbiamo tirare giù questa volta 10 nemici ma però parecchie persone che non sono messe così bene in quanto assoluta le missa che abbiamo utilizzato abbiamo un po di bende opportuna però lascio tutti così per cercare di sfruttare le bende che abbiamo con la gente che sta peggio e beh direi vorrei dare un po di cuorine anche a sineros è un po anche a quell'altro qua è un po anche a quell'altro qua deve curare con questo deve curare il lui io comunque ho una ferita alla gamba allora fatto questo dobbiamo un po avanzare non abbiamo arcieri temo ma tutte truppe di terra no c'è lui come arciere abbiamo un asset abbastanza strategico andrei su di lui più che altro per il fatto che non ha il scudo ma di qua è po' idem a posto direi lui ha un cure effettivamente che toglie i burned, poisoning o burning abbiamo qualcuno di bruciato questo lui effettivamente peso però non riesce ad avvicinarsi invece si lì lì ok siamo abbastanza a posto direi ah c'è anche l'altro gruppo appena arrivato eh 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 però qua c'è un botto di gente eh eh li terrei poi in difensiva più che altro eh un interrupt se qualcuno avanza eh avessimo liberato più i pretoriani sarebbe andato meglio eh si lascia così anche le catapulte quelle che sono rimaste ma dove sono più che altro cosa possono scattershot come come uno scattershot qua poi uno scattershot qua poi un stone qua poi un stone qua Aia Carnele a macello Soprattutto quelli a mira Aia Che se l'ho sentita Tra un turno arrivano dei rinforzi nemici Tra l'altro Aia Ebbene cercare di muoverci in fretta Verso quell'area là Perché se no siamo un po' E' così Giulia per fortuna c'ha Interrupt Qui si è riusciti a E quelli scappano ovviamente Dalle catapulte Perché le catapulte faranno niente Aveva tutti addosso Porca pupazza Ok 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 Fico Quello valeva a tirare Ok ma Bruciato nessuno Ne sono tornati due Ok Allora No Non voglio quello perché se no sono guai Ci sta Allora Eh ma quello in cui caricavo era Eh niente Dire così Ehm Va vai con questo Come per side Non lo sai Ma ci sta Me l'ho quasi andato Ehm Ehm Non abbiamo modo di aiutare loro Mi sa No Facciamo che salire di qua Il piatto che non ha abbastanza movimenti Vero Eh sì Perché quello invece riuscirebbe a salire Sai che salire intanto Per distrarre un po' E' qualcuno ancora con delle bende Lui ha delle bende Ma è quello che ne ha bisogno E' altro Vai E' là E' là E' là E' là E' qua Ma l'arcere Eh no niente L'arcere l'abbiamo già andato Lassù Eh vabbè Niente Ah questi non l'abbiamo mosso Ah ok Per il seno è un turno dopo Per fortuna Ehm Allora Giulia Direi che Visto che quello è praticamente andato Ok 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 No Dai Con un punto è resistito Vai con questo Poi vai con Questo Non è meno Ehm Ehm E niente Giulia è stato ad aspettare un attimo Perché non ha più niente da fare Ok 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 Le catapunte Hanno colpito Ma adesso No Spray Cosa cavolo Far colpire loro Perchè mi sa che Mi sa che Non è vero Non è vero Ma è vero è vero Che era con Sinaros Pobre ragazzi Ah ce l'hanno anche con lui che non so chi sia Caffè riparo diventa andato Provatevi là please Buona, buona, buona quello è andato Quello sta malino diciamo per non dire peggio Se vado qua vedo il tizio dietro di lui e almeno Quello Allora questo lo mandiamo qua e vediamo se c'è qualcuno che è in grado di curarlo Allora Sineros sarebbe in grado di curarlo ma dobbiamo toglierli in mezzo Il tizio di mezzo ai piedi Qualcuno ha dei giavellotti più che altro Mi sa di no No, lei può caricare solo linea retta comunque per farla Se due exit, ok Con questo dovrebbe cadere definitivamente Ok così almeno con questo dovremmo Cure Togliere altre pose Eh, sì, così ci sta Qualcuno può curarsi Sineros Nooo, non volevo Let's reach target, ma se target si avvicina invece Qualcuno può curarsi Eh Grazie Grazie Che può fare Può salire anche lui L'altro non lo vede, no? Ma di qua lo vedrebbe Ci sta Allora passiamo con questi altri Allora questi altri hanno Quello è andato, per cui andrei qua No Ah, no lo ho visto Ah, no lo ho visto Ok Ok, perchè è flancato quindi faceva più danno Tiro il giù Ok, ne abbiamo tirato giù dieci forse Punto allora 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 Mi tirate megas è Lassu in cima Ma dobbiamo andarci noi o che arriverà O Speriamo che Si avvicini lui Ah, quello che facciamo di arrivarci Dassu Non ci si arriva Se vado qua dovrei avere un Ranger su di lui Buono Credo che curare qualcuno Forse non è un momento Uno è andato Due è andati Ok Ma ho catapulte Andiamo a stone di qua Allora, non tanto loro muoveranno E' qua, dai, proviamo a vedere Si camperano là Ah, io ho le catapulte Sono furbi, se restano là Perché ho visto che le mie armature Cioè le mie cose le ho fatte sulla parte avanzata Le mie catapulte, le armature Ah, quello avanza Aia Ok, va bene Il tizio nostro alleato Ok, teoricamente non dovrebbero arrivare più alleati Né nostri, né loro Non vedo più l'indicatore Per cui sospetto che sia così Andato, bravissimo Poi non abbiamo uno che sta bruciando Col sotto Ma però il giro da dietro C'è alcun giro da dietro Ah sì, c'è un giro di là Però tu ricollegala Allora, questo non sta benissimo Sì, Neroz è ancora nei dintorni Sì, però non ha più cure Posso togliere il burning E che loro dove sono? C'è uno là E già Michael lo raggiungo Ma quello è andato Prego in genere avanzare Ok Ok Non ha più movimenti Allora, lui non può più fare molto Però Tirate giù questa barricata Please Se è possibile Ehm Va qua a vedere la ricera Dai, ora proviamoci Ok Ah, lui è qua E qui tirare giù questa E' andata? Buono Lei La facciamo avanzare Fippo Noi vi facciamo fare Il giro lungo E ci siamo Allora, con loro invece Tu vai là Iulia vai qua E vedi se Oh, che ottimo Non ci delude mai Iulia comunque Best player ever In the game of the world E' a posto Vi sa Adesso muovono loro Ah, prima le catapulte Ok, uno è andato Fizio non c'è Questo è riparato Non ne avevamo mai dato nessuna Là in direzione Di questi Scattershot Un scattershot qua Non scattershot Qua Un scattershot qua Un scattershot qua Un scattershot qua Solo muovono Qui si sposta proprio negli scattershot in faccia Perchè non gli frega niente Perchè si prende la catapulta in faccia vero? No, non ancora Ma è buono che questi gruppi insieme si muovono insieme Non deve essere aspettare il movimento giuro Perchè sennò già ci va almeno mezz'ora a fare una parte di assedio Figuriamoci fossero tutti scollegati diciamo Ma io volevo assedio, vabbè Ah, perchè gli altri sono dell'altro gruppo quello che devo guidare dopo Ha senso Ehm, questo lo mo' qua Questo lo mo' qua Viene Ah, lui Di qua posso fare il giro da qualche altra parte? Posso scendere, ma Vabbè, io lo tengo qua Se ve lo dovessero cercare di scappare Che so io Ah, però posso passare di qua Ma Qui ha senso che cerchiamo di prendere questo high ground Perchè Tiri ha difesa Da questa zona Abbiamo nessuno Abbiamo nessuno che so Ah no, lui si Ah, che evitate se stessa Buono Ehm Ehm Scatter No, non fireball Scatter Perchè C'è No, non fai No, non fai No, non fai E se arrivano ovviamente Seguiamo da tutto questo Sì C'è L'assassino qua da qualche parte Probabilmente Ehm 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 Eccola per la foto che c'è Yulia qua vicino si sale una bella frecciumba in faccia per il dato quello non c'ha kudo in genere ma poverino così a caso ah no prima ah no Yulia è dopo prima raduniamoci un po' di più tipo così tipo così 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 ma qui è posto qui deve arrivare no qui c'è qui è pronto qui c'è un po' è frecciumba quello giusto Yulia avrei bisogno che lei salisse adesso possiamo provare anche un quick invece no non è bene di no non è bene di no non è bene di no 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 basta basta catapulto perché penso che qua rischia solo di fare male a noi e ciao c'è un'altra scommessa è andato Ah, c'è la ricetta da sopra però, sta salendo lui Ok, mi spiace per il fatto che il video sta venendo lungo, ma se parti sono davvero molto lungo È molto difficile da tagliare, stanno spezzando brutalmente proprio il video No, no, farei con la ricetta, dov'è la ricetta? La Nel prossimo un quick Ovviamente Ok Ah, ma contava come attacco quello No, aspetta No, 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 no Buono Ah, no, devo fare la ricetta prima Ah, appena fa mano all'altro, va bene, ho paura che andasse a farmare anche l'altro Eh, no, Sideros dopo mandare più che altro questo E poi E E Sideros, niente, sideros, sai qualcosa che puoi fare di... Un range 2x Non ci arriva comunque Allora, qua abbiamo Giulia che... non so se riesce a beccare quello in qualche configurazione No Ma abbiamo quel tizio che... Inspire, sì Per cui, allora Farei più che altro No, farei più che altro andare qualcuno che fa più danno Tipo bestia Vabbè Vabbè, se vai qua Cioè, qua in realtà Tu, invece No, dov'è lui? No, lui è dall'altra parte del mondo E niente, allora In realtà Vabbè, in piedi, magari Luria riesce a… No, riesce a un Kaizen Non voglio facere niente, ragazzi, ho avuto tutto preso. Mi sa che siete voi che siete in una brutta situazione, in realtà. Oh, fanno quelli di là, non si passa. Adesso sono un po' confusi, eh. Ma perché, poverino? Non era necessario. Dai, dai, tanto non fate niente. Allora, la racere... Dov'è che era il... Questo era l'unico sezzo scudo. Solo tre, non è buono. Non è comunque troppa armatura? Allora... Ok, e mo? Qui ci rimane lui che riesce a pizzicare qualcuno. Così questo, avessi prendere un attacco. Ok. E... No, c'è l'altro che sta bloccando la vista. Ciao! No, aspetta, vabbè. Farei salire sul tizio il colon. Mi ha integrato pulte. Quelli che fai dallo scudo o almeno quello sanguino. Sono gli alleati che sono stati sono inutili perché è circondato completamente. Adesso 40 minuti sono... Sarebbero due video questa roba qua. Ma povera donna! Vabbè, dai, basta. Eh... Ho capito che non sapete cosa fare perché vi ho bloccato tutto, ma non è che devi fare vedere ogni singolo... eh. Ok. Allora, tu... Però sì, no, questo è un attacco che l'ha usato, perché muoviamo lui qua e gli facciamo questo che fa il sanguinare, bene io la dovrebbe concludere, yes, andati, allora majority che aveva già, abbiamo usato tutto quello che c'era possibile utilizzare No 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 Inoltre, abbiamo vincitato uno dei maggiori soldi di Roma, un soldo che anche Cornelius Sulla non aveva gestito. Con questa vittoria, la Repubblica è ancora tutta. Il vostro è stato stato il riuscito meteoricamente per la famiglia militare, è sicuro. Il Consul ha un'esplosione impressionante per il talento. La possibilità di brillare. Servirò Roma ancora, se ci sarà una necessità. Non sei il raro, non più. Il mio corso non è per i tuoi, per farlo. Ancora, l'ho portato molto letteralmente. Qui, Legate, è il vostro. Sei il raro di questa battaglia. Ehm, faccio una domanda. Non hai neanche un reame metteritate, cosa faresti anche se fossi di nuovo libero? Ehm, lo vedo quando sono vincitato. Ehm, viaggiare l'esterno con la mia famiglia e tu non potrai mai ascoltarmi ancora. Ehm, lo sguardo ai miei ancoristi. Ehm, proviamo questo. Ehm, strangolato cerimonialmente non mi piace molto, eh, però... Ehm, questo è il modo tradizionale che abbiamo affrontato con i nostri vinciti. Ehm, molto bene. Ehm, sarà un triumfo di ricordare. Ehm, non puoi fare questo per me. Ehm, sono un descendente di Sirius the Great, Darius the Great, Alexander the Great. Ehm, chi si occuperà della seminora, eh? Ok. 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 Ok, ecco la traccia. Il parola è che un grande armato di serwi è rammatizzato all'interno del paese, menacendo i cittadini di quella regione. Ah, lì. Apparentemente, il Praetor Marcus Licinius Crassus ha offerto di rinforzare e equipare un'armata per rispondere con il problema. Ah, crasso! Ok, volevo il Praetor Virato. Ehm, resterò al comandante della legge Victrix dopo la guerra. Sì. Chiaramente non. La legione deve essere disbandata prima di crossare il riveo Rubicon. Ci parleremo di più quando arriviamo i loro bank. Ovviamente, i legionari sempre ricordano il tuo eccellente leader. Se dovessi necessitare di mostrare una legione di nuovo, sono sicuro che molti potrebbero essere serviti per serviti di nuovo. Ok. Allora, diciamo, avvisiamo roba che stiamo tornando. E' bene di tornare a civilizzazione dopo questi lunghi mesi a lungo. Assolutamente. È stato un grande honore di servire tutti. Tu hai servito con distinzione, Orestes. Mi rispondo che non potrei vedere la guerra passata come il tuo comandante. Venite, lasciate tornare al nostro camp e cominciare a organizzare il nostro avvento. Abbiamo abbastanza di tempo per parlare sul�. Ottimo. Direi che per questo episodio è tutto. Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, iscrivetevi per caso non lo sia già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.